L'idea è nata guardando dei miei colleghi stranieri che realizzavano questi property tour per pubblicizzare le loro proprietà in vendita. Facevano un ottimo lavoro, l'unica cosa che ho notato è che per queste proprietà ultramoderne, stupende, con tutte le caratteristiche possibili immaginabili non avevano in realtà una vera e propria anima e non avevano soprattutto una storia. Quindi a seguito della mia esperienza all'estero, che è stata veramente determinante per me e per la mia crescita e che mi ha dato un grande coraggio di implementare questi nuovi progetti. Sono tornato in Italia e ho deciso che era una buona idea pubblicizzare delle proprietà, sia delle dimore storiche con un'enorme valenza storica, ma anche delle piccole gemme nascoste nel mezzo della campagna toscana. Questa idea ha avuto subito un grande successo e questa cosa mi ha spronato a continuare. Inizialmente era una tipologia di marketing per l'immobiliare sconosciuta e nuova. Dopo poco, visto comunque il grande successo che hanno avuto, è diventato quasi un vero e proprio trend. Quindi ci sono molte richieste. La nostra specialità è senza dubbio quella di trattare immobili unici, speciali e ripetibili. Questa tipologia di oggetto si presta molto bene per essere presentata in un video perché ovviamente intrattiene lo spettatore. I nostri video vengono principalmente realizzati in inglese perché circa il 90% della nostra clientela è straniera e parla questa lingua. Anche la clientela italiana che in genere si interessa a questa tipologia di immobile, in genere parla inglese. Vengono in genere molto apprezzati. Non vi nascondo che abbiamo venduto degli immobili grazie al video e è sicuramente un valore aggiunto che diamo alle nostre proprietà per aiutarne la vendita e la pubblicità in questo periodo di restrizioni. Il nostro acquirente tipo è sicuramente il cliente americano che ricerca l'Italia per il suo lifestyle, la sua cultura culinaria, architettura, arte per il vino. E questi video veicolano un po' questo sogno che hanno questi clienti. Infatti sono dei video molto emozionali che scaturiscono in queste persone una voglia di scoprire e di rincorrere questo posto che è l'Italia, che è un posto considerato un po' un mito dagli stranieri. Grazie. 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 Grazie a tutti.